carissimi amici buongiorno oggi vi ho portato nel canneto per iniziare a capire come costruire il piccolo panaro potaspezzi e tutto va costruito in scala a cominciare dalla scelta della canna la canna deve avere una misura in base a quello che dobbiamo fare allora vi faccio vedere quello che io raccolgo nel canneto per quel tipo di panaro ecco guardate la mia mano vedete la misura questa è già una delle canne che io vado ad utilizzare questa così vedete che bello poi aprendola che bel giallo che c'è un giallo oro stupenda vedete non più grande di questa qua ce ne sono ancora più piccoline ma non non è per quel tipo di cesto magari per uno più piccolo ancora per esempio tipo questa qua così faccio un'altra vedete questa quest'altra misura qua vedete questa è ancora più piccolina come misura allora si inizia dalle canne per cominciare a fare il cestino la scelta delle canne perciò mi raccomando iniziate a cercare le canne perché nel prossimo video inizieremo col fondo se vi procurate un salice sempre su misura molto fine quindi non deve essere il salice insomma dovete fare attenzione nella scelta pure deve essere abbastanza morbido se chiuderlo si spezza è troppo duro quindi dovete scartare dal salice che avete oppure che so se avete raccolto del materiale deve essere molto sottile come lo spessore che che posso dire di un ago uno spessore diciamo appena più grande di un ago non deve essere molto grosso se no quando andate a chiudere il bordo la corda non si chiude bene viene troppo brutta non comunque ripeto la cosa importante questo è un oggetto in scala quindi dovete osservare anche i materiali in scala ok ci vediamo al prossimo video intanto fate tesoro di quello che vi sto spiegando adesso preparatevi la canna da raccogliere e per il prossimo video iniziamo buona giornata